Benvenuti a San Dario, San Andes, Dario e Andes che sono stati fatti da Benedetto, Moraco e Tommaso, il padre della manifestazione. Questo è un pallacchino donato da Camillo Alleri. Da Camillo Alleri è importante perché è una costruzione che si è formata da Cristal, che è una porta dentro del Salone Occa, dove ha due braccia, la porta di Dario. Ora piano, al centro, questa cruce detta Saloteca. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.